Io vi ringrazio moltissimo di questo invito a partecipare a questo momento di ricordo e di omaggio a Francesca Morvillo. Oggi abbiamo detto tante parole, non ne voglio aggiungere molte, ma volevo essere presente per testimoniare con la presenza innanzitutto l'importanza e il rilievo che questa donna merita non solo per amore, come è stato detto, ma per tutto quello che il suo servizio per la giustizia ha rappresentato e rappresenta. L'occasione della presentazione di questo libro per me è stata una possibilità di conoscere un pochino questa personalità che è davvero troppo spesso rimasta semplicemente accanto al nome di suo marito. Ed è bello che sia stata ricordata con questa espressione, questo titolo, non solo per amore, con un accento che vuole dire che c'è qualcosa di più, ma c'è anche quello. C'è un non solo, non è semplicemente un'esclusione, un'alternativa, ma è proprio uno spaccato di una personalità che si arricchisce attraverso i contributi bellissimi che sono stati dati. Ovviamente io non l'ho conosciuta, non ho avuto modo di conoscerla, ma alcuni tratti emergono dalla documentazione e dai saggi che sono contenuti in questo testo, a partire da quella splendida riflessione sulla malinconia. Mi ha colpito molto, dottoressa Sava, questo accento che lei ha posto sulla malinconia perché è un tratto della personalità che dice della grandezza d'animo, di chi è vicino a pensieri alti, che sa che mai potranno essere raggiunti pienamente, che lasciano quell'ombra nello sguardo e nell'animo, ma che dicono anche di un'aspirazione, di un ideale verso i quali si tende. La malinconia non sottolinea ciò che manca, ma una direzione verso cui si va. E mi è piaciuto moltissimo ricordarlo proprio con questo tratto della personalità. Non so se i familiari poi si rispecchiano in questa visione del carattere, ma credo che ne colga la statura umana in ogni caso. Io vorrei soltanto riproporre all'attenzione di tutti qualche spunto che io ho imparato dalla lettura di questo testo, mettendo in evidenza tre tratti della sua professionalità e della sua personalità. Il primo è il fatto che Francesca Morvillo era una delle prime donne magistrate. Noi ora diamo per scontato di vedere la procuratrice generale qui parlare da questo podio, o comunque vedere tante presidenti di tribunali, donne che stanno dando moltissimo alla magistratura, alternarsi al microfono con i colleghi uomini. Non era così a quell'epoca. Francesca Morvillo mi pare sia del concorso del 68, quindi a pochi anni dalla rimozione di quegli ostacoli all'ingresso in magistratura che il nostro ordinamento, il nostro paese si è portato avanti davvero per troppo tempo. Ci sono voluti 15 anni dopo l'entrata in vigore della Costituzione per accorgersi che forse quel divieto all'ingresso in magistratura non collimava proprio con l'articolo 3 della Costituzione che parla di uguaglianza e del 51 che parla di uguaglianza nell'accesso ai pubblici uffici. Non era semplice per le prime donne magistrate farsi largo in un mondo così spiccatamente maschile. Lo dico anche per aver provato quella solitudine in alcuni anni, nei primi anni alla Corte Costituzionale. È un privilegio essere annoverata in un così alto consesso, ma certamente anche una certa difficoltà a essere soli, a guardarti da una parte e dall'altra, a non trovare un volto femminile col quale scambiare due parole. C'è qualcosa da non dimenticare in un percorso che è stato iniziato all'insegna di questo tipo di situazione. Il secondo aspetto è già stato ampiamente sottolineato più volte nella giornata di oggi, anche poco fa ricordato col suo lavoro di giudice minorile. La sua attenzione ai minori, io credo, vada a scritta a pieno titolo nel suo personale contributo alla lotta contro la mafia e contro la criminalità organizzata. perché agire a tutela dei minori, agire accanto ai minori come giudice e anche in quel lavoro di presenza sociale che già altri hanno ricordato prima di me, è un contributo di valore altissimo, di prevenzione. Mi piace ricordare anche qui quanto più io vado avanti nella riflessione anche sulla funzione della pena, sulla funzione costituzionale della pena, più mi rendo conto che tanto più si espande, è ricco il momento educativo che il nostro Paese sa offrire ai giovani, tanta più educazione c'è, tanto meno bisogno di rieducazione attraverso la pena si rende necessario ed è sempre più difficile rieducare rispetto ad educare. Quindi c'è un nesso, un sodalizio strettissimo in questa attenzione alla vicinanza, al momento formativo dei giovani e al ruolo di giudice che Francesca Mosbillo ha svolto, tanto più che, ed è questo il terzo spunto su cui poi vi lascio, la sua attenzione alla funzione della pena e alla sua configurazione costituzionale emerge sin dalla tesi di laurea che era appunto dedicata allo Stato di diritto e alle misure di sicurezza. ci sono dei passaggi che vengono anche ricordati nel libro in cui emerge tutta questa sua sensibilità alla necessità di una pena anche severa ma sempre svolta non solo nel pieno delle garanzie ma nel pieno della sua funzione che è sempre una funzione rieducativa. Esigenze punitive e ravvedimento e risocializzazione sono binomi inscindibili per lei e per tutti noi che dedichiamo le nostre energie su questo terreno. Ci sono tratti della sua personalità che emergono anche dalle valutazioni che sono riportate della sua professionalità che sono molto significative sicuramente scritte dalla penna di qualche collega uomo più maturo e che sottolineano per esempio cito le sue doti umane non disgiunte dal necessario rigore sono servite sia a mitigare la sprezza della pena che a ricondurre sulla retta via minori dalla condotta irregolare. Ecco questo rigore nell'uso degli strumenti giuridici questa professionalità nello svolgere la sua funzione di giudice ma animata, vissuta, resa calda da una umanità non esibita da una sensibilità vissuta nella sua profondità ci restituiscono un volto e un profilo di questa moglie, di questo magistrato di questa grande donna del nostro paese come il volto e un profilo di grandissima autorevolezza la quale giustamente possiamo invitare a guardare anche le giovani generazioni che sia stata dedicata a una sala anche in questa università trovo che sia un gesto bellissimo per il valore di esempio che questo può significare per tutti gli studenti che passano di qui grazie al magnifico rettore grazie agli organizzatori grazie grazie